Vai, vai, vai! Il prossimo traguardo è il numero 12, daranno assegnati i primi punti validi su questo traguardo, il traguardo è il numero 12. Capri, dovremmo poter sbucare la testa del gruppo, la pianta è ancora compatta con la testa del numero 12. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Prima, i primi punti, i due punti assegnati alla concorrenta numero 108, Grimpa-Sapia, in un punto alla concorrenta 89, Stamonti-Greca. Questi i primi punti nel suo segno sul traguardo del numero 12. Tra pochissimo, dovremmo ripresentare la Grimpa-Sapia sul traguardo del numero 11. Grimpa-Sapia con questo giro. Diamo già la balanza di tutti sul numero 11. in un punto alla concorrenta numero 751, Corsi-Guria, in un punto alla concorrenta numero 8152, e di una pinte e di punti nel senso, mancheranno 10 giri alla conclusione sul prossimo sbagliardo e daranno affinati ancora punti vari per la passione massissima in gestione di vita 2 giudaldi 3 giudaldi Il 2o è il numero 108, il 3o è il passaggio di numero 2, 4 punti confessati il 2o è il passaggio di 1, il 151 è il passaggio di 1, il 2o è il passaggio di 1 e il 2o è il passaggio di 2 e il passaggio di 1, il passaggio di 2, si porta a cuota 3 punti confessati fino a quel punto del gara non lo sceglie alla confusione non dire al termine sulla stessa controguardo di attenzione Gabriele per voi traguardo di non sceglie alla confusione tutti i fatti di ancora in palma una larga per i punti e i nomi del meno nove guardagno dei punti la concorrente numero 778 su di giugno e lui la frene per essere ciniste e godagno a uno la concorrente numero 108 il passo via nella patria e si porta a ciniste punti tutti i fatti in una questione della gara 8 c'è la confusione sul prossimo passaggio attenzione la prete Gabriele per voi traguardo gli 8 c'è la terra e il primo paio la mano a tre spavano sopraggiungere il petto il tante due punti la concorrente numero 108 qui in passo via nella cinque si porta a quota sette e lo regno a uno la concorrente numero la concorrente numero si porta a due e la vinte se la c'è una a sua fila sarà in quota due punti conquistati e anche qui verranno assegnati i puntuali la confusione tre e sette giri alla conclusione tutti i fatti la concorrente numero 108 qui in passo via che da sette passa a 9 punti contestati la concorrente numero 751 così in giugno negli 5 sarà in quota sei punti conquistati fino a questo momento della gara quindi si parla per la distanza premista in giugno sicuramente le punti in giugno due punti arrivati e due punti in giugno manca manca lì il sottile termine ancora tutti in paio e se la c'è una con il sottile di giugno che da sette tra di giugno la testa in questo istante ragazzi due punti la concorrente numero 751 in giugno numero 6 passa a 8 punti conquistati riconquista una ancora la concorrente numero 58 qui in passo via ne arriva 9 al suo stile si porta 10 punti conquistati perché non poter superare il proguardo del seguito termine un grado 5 sulla traguardo ordinale 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 8 9 Quattro giorni alla confusione. Quattro giorni al termine. 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 La scuola è la scuola. 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 La scuola è la scuola.